Per la festa della donna, che in realtà preferisco sempre chiamare la festa della femminilità, come se appunto stessimo celebrando qualcosa che al di là del genere è dentro tutti noi, mi piace leggere un pezzo tratto da un capolavoro di una delle mie scrittrici preferite, cioè Virginia Woolf. Nel suo romanzo celeberrimo, che è Mrs. Dalloway, c'è un passaggio verso il finale in cui la protagonista va alla finestra. Durante la festa che ha organizzato in questa giornata in cui si svolge il romanzo, in questa giornata di giugno, lei si allontana dalla folla dei suoi amici che sono accorsi a casa sua, si isola e guarda la finestra e ripensa a tante cose, tra cui la morte di un ragazzo che in realtà nel romanzo non incontra mai direttamente la nostra protagonista, di nome Septimus, il cui destino però indirettamente si intreccia con quello di Clarissa, in quanto le giunge notizia della morte di quest'uomo per atto volontario. Ne ha sconvolta stranamente e questo la porta a ragionare sull'essenza della vita, a fare i conti anche con i suoi ricordi. Ripensa a quando era una giovane ragazza e aveva passato un'estate a Barton, dove il suo destino per molti versi si era deciso. E lì riflettendo, ragionando, Clarissa guarda fuori dalla finestra e vede una signora molto anziana di fronte a lei nell'appartamento di fronte che compie i gesti naturali della vita. E questo per Clarissa diventa il motivo per riflettere sulla caducità dell'esistenza, sul fatto che le piccole cose che noi compiamo nella vita abbiano in realtà un valore, qualcosa di profondo. Infatti se da un lato è sconvolta dalla morte di Septimus, che pure non ha mai incontrato, dall'altro Virginia Wolf fa nascere dentro la protagonista uno strano senso di gioia, perché riflette sulla vita ed è come se facendo pace con i suoi ricordi Clarissa diventasse se stessa perché accetta la fragilità dell'esistenza. Non a caso Mrs. Jalloway finirà con alcune parole chiave che sono for there she was a indicare Clarissa. Lei è lì, è il senso della sua presenza, del suo essere, ci avrebbe detto Heidegger, il significato più profondo di questo romanzo. In questo passaggio lei cita non a caso un verso tratto da Shakespeare, dal cimbelino, Fear no more the heat of the sun, non temere più la vampa del sole. Ecco questo è l'augurio che con Virginia Wolf vorrei fare, non temere la luce del sole, cioè trovare qualcosa per essere nella nostra fragilità felici di passare in maniera così veloce e fragile all'interno della nostra esistenza. Leggo il passaggio nella traduzione bellissima di Nadia Fusini, che è una delle grandi studiose del pensiero e dell'opera di Virginia Wolf in Italia. Allora, lei l'aveva provato quella mattina? Ecco il terrore, il senso di un'incapacità schiacciante, i genitori che ci mettono in mano la vita, questa vita, perché la viviamo fino in fondo e la attraversiamo con serenità, ma nel fondo del cuore lei covava una paura tremenda. Anche ora, spesso, non ci fosse stato Richard lì a leggere il Times e lei non avesse potuto accoccolarsi come un uccello e pian piano riprendersi e sfregando bastoncino su bastoncino una cosa con l'altra e ravvivare così la fiamma di quel piacere incommensurabile, sarebbe già morta. Lei un uomo ora una donna e dove restare lì, in piedi, nel suo vestito da sera. Strano, incredibile. Non era mai stata tanto felice. Non c'era niente che fosse abbastanza lento, niente che durasse abbastanza a lungo. Non c'è piacere, pensò Clarissa raddrizzando le sedie, rimettendo a posto un libro nello scaffale, che guagli il senso di averla fatta finita coi fasti della giovinezza, di essersi perduta nel corso della vita, per poi ritrovarla ora, con un brivido di gioia, al sorgere del sole, al calare del giorno. Quante volte a Barton, mentre gli altri parlavano, lei andava a guardare il cielo, o l'aveva intravisto a cena tra le spalle della gente, anche ora a Londra, quando non riusciva a dormire. Clarissa andava alla finestra. Per quanto assurda fosse l'idea, quel cielo di campagna, quel cielo sopra Westminster, possedevano qualcosa di suo. Clarissa aprì le tende e guardò. Ecco, la vecchia signora aveva spento la luce. Ora tutta la casa era al buio e tutto continuava, ripetè, e le vennero alla bocca quelle parole. Non temere più la vampa del sole. Doveva tornare ai suoi ospiti, ma che notte straordinaria, pensò. Si sentì proprio come lui, il giovane che si era ucciso. Fu contenta che l'avesse fatto, che l'avesse buttata via la vita, mentre loro si inquietavano a vivere. L'orologio batteva, i cerchi di piombo si dissolsero nell'aria, ma lei doveva tornare di là. Bisognava che si ricomponesse. Clarissa doveva tornare alla festa e rientrò nel salottino.